Questa meraviglia di Maremmanina si chiama Wendy, ma guardate che splendore. Una cucciola di tre mesi destinata a diventare di taglia medio grande, dolcissima, anche se timida, poverina. Infatti Wendy è nata in campagna, la mamma l'ha partorita lì e naturalmente non aveva modo di vedere gente e di socializzare. Noi andavamo regolarmente a portare da mangiare e non potevamo comunque condurla qui in canile perché non c'era posto inizialmente. L'abbiamo fatto purtroppo tardi perché un fratellino dei quattro, al momento di andare a prendere la cucciolata, era morto. Un fratellino bello come Wendy, povero cucciolo. Per fortuna Wendy almeno si è salvata con i suoi due fratellini maschietti e con la mamma Peggy, bellissima. Adesso per Wendy contiamo di trovare una bellissima famiglia. Lei ha tanto sofferto, anche lo spavento di entrare qui in canile non è una cosa da sottovalutare. Adesso li abbiamo messi in un box tranquillo, a loro piace la tranquillità. Ma speriamo presto di portarli via di qui, proprio per farli entrare in una bella famiglia. Ricordate che per questa cucciola, come per tutte le femminucce che noi affidiamo, c'è l'obbligo di sterilizzazione prima del primo calore. Ciao Wendy, sei bellissima, sicuramente chiameranno per te, non possono non notarti. Ciao!